... Presidente Berlusconi, il PD alza le barricate sull'articolo 18. Tutti e di loro. Avete discusso dell'articolo 18? Discusso? Io ho detto, ho ribadito cose che ho detto più volte. Ecco, qualcuno in giro forse pensa che oggi licenziandosi poi si crei il meglio lavoro. Ecco, penso che questa sia un'assurdità. Io sono dell'idea che va riformato il mercato del lavoro, non c'è dubbio. La norma che è stata presentata al governo è una norma assolutamente, diciamo così, accettabile. Il lavoro è fatto di regole. Noi abbiamo delle regole che stanno umiliando il lavoro, in particolare nella nuova generazione. Abbiamo speso 18 miliardi per sgravare il Job Act e i risultati sono quelli che vediamo. Ma perché vota sì lei? Perché penso che comunque correggere il bicriminalismo sia un fatto importante, perché lì dentro ci sono alcune cose buone, alcune le ho dette, altre potrei aggiungersene. Nell'insieme, nella somma algebrica del più e del meno, per me è un passo avanti. Chi ha votato no, non si senta traditore del PD. Non si senta traditore del PD. Intanto arriva l'investitura piena di Bersani alla domanda se riconosce la leadership di Pisapia e Lapidario. Sì, assolutamente. La leadership di Pisapia è riconosciuta da voi o no? Grazie.